Daieee 30 secondi E siamo qua Bella Col mitico Pio 3D Bella ragazzuoli Mi vedete tutto a posto? Daiee, daiee, daiee Ci siamo, ci siamo Il mitico gatto, Mishi Quella si lecca Si fa la toletta Ted dietro Allora, aspettate che Intanto condivido ovunque Allora C'è anche il loghino Di Do You Remember, vedo, chissà perché Chissà perché, ma Non so come mai È comparso da solo, si è tipo materializzato Puff Allora, intanto ciao a tutti ragazzuoli Come state, che si dice, bella Alex Quanto tempo Mamma mia È vero Madonna Intanto il gatto Sefer Bidet Intanto grazie ancora per l'articolo di Do You Remember Molto, molto, molto bello Quindi daiee Daiee Ah, ringrazio Ronin Daiee No, figurati, tanto Intanto figo Parla di retro gaming Quello è il mio messiere Su Games Galaxy Quindi L'importante è che ti piaccia il format Quella è la cosa più importante A voi A me piace un sacco Perché proprio ricordare le robe del passato Cioè non ha prezzo Poi vabbè Per un 0-0 come la farina Come sottoscritto Sì, purtroppo Non avendo vissuto le cose in prima persona È brutto Però Se c'è qualcuno che te le ricorda Tanta roba Eh, qual è il problema? Che L'unico difetto, secondo me Di quel Di quel format È Che non lo possono apprezzare tutti Però quello che sto cercando di fare È infatti Dalle prossime puntate Eh Ne parlavamo anche in privato prima Eh Perché adesso Il prossimo episodio È concentrato sul Master System Ma quello prossimo È sulla storia dei Nokia Dei cellulari della Nokia Quindi lì cerco di prendere anche I cellulari attuali Eh Dei primi anni 2000 Che comunque anche I più giovanotti Possono Ricordate Ricordare Chiaro Perché comunque Non è che voglio parlare solo Degli anni 80 e 90 Voglio parlare anche Dei primi anni 2000 Eh Tutto qui Spero in futuro Che Prenda piede Questa Ma non dipende da me Purtroppo Ma In pratica Scusa un attimo Quindi fai anche il drop test Quindi col Nokia In pratica Si apre direttamente Un buco nero E con uno smartphone Normale In pratica Si rompe Alla partenza Giusto Quindi crei anche Però proprio della storia Del Nokia Dal primo Nokia Fino agli ultimi Attuali Tutto qui Cercherò Quello che è rimasto Della Nokia A dire la verità Vabbè Sinceramente hanno fatto Anche ultimi telefoni Super piatti Che ricordano Gli iPhone E Samsung Quindi Non Parlando proprio Della Nokia Io penso So proprio Che il loro errore È stato Insistere con il Sibian Da come ricordo io Fu proprio il Sibian Il loro errore Perché Di non passare A un sistema operativo Attuale Cioè loro credevano Nel loro sistema operativo Però era molto antiquato Molto lento Molto macchinoso E quello è Poi Vabbè Avendo dell'iPhone Amen Vabbè Io l'ultimo Nokia Che ho avuto È stato l'N95 Quindi Io quello ce l'ho ancora E non lo venderò mai Quello è Una pietra miliare Io faccio la collezione Di Nokia L'unico Che mi manca È l'Engage Che purtroppo Mi è stato rubato Quando ho fatto Il Traselogo Ma aspettate Ma l'hanno rubato Di tutto Praticamente Cioè in pratica Mi hanno rubato 5.000 euro di roba Ti hanno fatto pulizia Praticamente Sì Mi hanno rubato Proprio Due scatoloni Con dentro Giochi retro Giochi del Master System Super Nintendo Drive I giochi della Play 1 Le console Il Commodore 64 L'Atari Il Nintendo 64 Di tutto e di più Quindi È stata dura Beh però Aspetta Pensarci Io ho Un Nokia 7 Plus Che è uno degli ultimi Telefoni Che ha fatto Nokia Con sistema operativo Android E veramente Spacca Come telefono Ok È del 2018 Però Dopo due anni Due Tre anni Di attività Ancora lì Bello Pulito Preciso Quindi comunque La Nokia Ha cercato Di riprendersi Nel mercato Direi Ormai Penso che sia Un po' troppo tardi Perché Lo zoccolo duro Rimane Ma Perché a quei tempi C'è un Nokia Raurando uno status simbolo A quei tempi Eh sì È il classico Cellulare da muratore Che è il 3330 Sì Sì Ma quello poi Non lo distruggevi mai Ma io sono l'unico Sfigato Che gli è cascato Una volta E se è rotto Allora Io mi ricordo Un aneddoto C'era un amico mio Che Quando c'era ancora Una sala giochi Nel bar del mio paese E ci stava uno Che giocava sempre A Flipper E ci stava un altro Che giocava sempre A biliardo Questo che giocava A Flipper Bestemmiava Ogni tanto E a questo che Giocava a biliardo Odiava la bestemmia In tutte le sue forme Odiava la bestemmia Non dove bestemmia Gli scappava la bestemmia Mentre che giocava A Flipper E questo gli tirava Il Nokia dietro Direttamente Spesso beccava il muro E il Nokia Continuava a funzionare Tranquillamente Ma questo Gli lo tirava dietro Proprio con forza Vabbè A mio padre Gli è cascato Mentre lavorava Dal piano In alto In grattacielo Mentre lavorava È cascato Si è rotto solo La custodia E non gli è successo niente A me mi è cascato Dalla scrivania Si è spaccato lo schermo Quindi Si disassemblava Lui lo ripetteva a posto Ripetteva la batteria Riaccendeva il telefono Andava come prima E la batteria E la batteria Non si rovinava Non era discostante Della realtà Ma io mi ricordo invece Che All'epoca Potevi fare Gli sfondi Con dei programmi È vero Mi ricordo le suonerie A parte le suonerie Ma tu potevi creare Con dei programmini Degli sfondi Che erano praticamente Del pixel arting Tu ti mettevi là Pixel fpx La fa del disegno Ed era un casino Perché dopo Tu dovevi inviare Il disegno A un sito internet Loro tramite sms Ti mandavano il logo Quindi ci volevano Un po' De soldi Ci voleva I tempi Tipo il gattino Quel gattino maledetto Mi chiamo A parte dell'enn 95 Quindi io sto parlando Prima dell'avvento Dei cellulari a colori C'erano questi siti internet Che tu gli mandavi Il disegnino Via email E loro dopo Creavano il codice Per farlo diventare Uno sfondo Sul cellulare Te lo facevano pagare Salato Te lo facevano pagare 4-5 mila lire All'epoca c'erano ancora Le lire ragazzi Quindi Ci facevano un botto De soldi Senza contare Che molto probabilmente Ti installavano Qualche abbonamento Molto Guarda ragazzi Rispondendo a Pinco Che è anche uno Dei miei mod Le suonerie Io me le facevo Da solo Ma c'erano anche Quelle a pagamento Io sul mio Nokia 3330 C'ho ancora la suoneria Di Castlevania Del Chocobo E di Mario Bros 1 Ce le avevo create Proprio io Ce l'avevo messo Giorni per crearle Invece te potevi Comprare le note musicali Quindi Pensa Sono paraculi Le note musicali Su sito internet Ti facevano vedere Sentire un pezzo Di suoneria Sul sito internet E loro ti mandavano Via email Le note musicali Che dovevi premere No Che tracciato 1-4 1-4-4 1-2-3-4 1-4-3 E ti veniva la canzoncina E ti costava 10.000 lire Madonna Fu un business Allucinante Ricordo pure Ti ricordi Quella faccia Da idiota Che faceva Le pubblicità in tv Quello addirittura Minacciano pure di morte Sì Sì Quello con la pelata Delle pubblicità estive Tipo Ti riferisci a quello Che ti diceva Quello Tipo Quando abbiamo vinto Il mondiale Sì sì Ho capito E quello Ho visto Da qualche parte Che ha avuto Un brutto periodo L'hanno minacciato Di morte Che poveraccio Quello Ma era solo il suo mestiere Che era un mestiere Stupido Ma era il suo mestiere Ma guarda Ti dirò Che cazzo è successo La tastiera Ti dirò No Non mi si illuminava più La tastiera Praticamente Io quando sono D'affare il militare Mi ricordo Una cosa che rimane A vita impresso Del mio cervellino Un tizio Aveva hackerato Il Nokia 3330 Voi direte Che significa Hackerato Io non so Questa cazzo Ha creato questo qui Ma ha fatto diventare Ve lo giuro ragazzi Una cosa che non mi dimenticherò mai Lo schermo a colori E potete mettere Le suonerie come MP3 Ok Stiamo parlando Del Nokia 3330 Sì E infatti Perché io sono riuscito A bucare l'N95 Gli ho detto Come cavolo Gli ho detto Come cavolo hai fatto Lui ci ha messo La memori card interna E praticamente Ha modificato Lo schermo Che ci ha messo Quello di un altro cellulare E ci ha messo La memoria Di un altro cellulare Ancora Con la memori card Che all'epoca Era una cosa Incredibile Però Rimettere massimo Due secondi Di MP3 Di dentro Capito come Mi ricorda I primi tempi Erano Ha preceduto I file midi Con le sonerie Quella Polifoniche Sì Quindi E ogni tanto Con questo qua Sono rimasto In contatto Ed è diventato Alla fine Un ingegnere Elettronico Quindi si dilettava A smontare i cellulari E li rimontava A modo suo Gran figata Gran figata E infatti Ho detto Ma come cazzo hai fatto Io ho il 3330 Ma non si sente così Il cellulare Suona in midi Quello invece L'aveva fatto diventare Non polifoniche Ma è MP3 Quindi pensa Vabbè Allora Torniamo un attimo Nel passato Allora PO3D È un bambino Il primo contatto Che nei videogiochi Ha avuto PO3D Ne parlerò Nel prossimo Do you remember Ma vi faccio Un mega spoiler Qui Perché comunque La cosa bella È che vi faccio Un ennesimo spoiler Nel prossimo video Questa scena Sarà narrata Da Raiden Dei Player Insider Tanta roba È mega Mega spoilerone Praticamente Io Al mio massimo Videogioco È stato Il Jig Tiger L'ho avuto pure io L'ho avuto pure io Da bambino Insieme al Game Boy Ero piccolo Fuori mi ricordo Che pioveva Un mio fratello Si gira verso di me E mi fa Fabri Domani è il mio compleanno E mi padre Mi compra Il Sega Master System E io gli dico Che è il Sega Master System E lui È un computer Perché all'epoca Le console Non le chiamavamo console Le chiamavamo computer Si si O videogioco No computer No computer Noi eramo proprio I computer Perché per noi I computer erano quelli Noi avevamo Cugini che avevano Il Commodore 64 E mio fratello Aveva l'Atari 2006 E io gli dico Vabbè ma I computer Sono tutti uguali No no Questo è più potente Del 2006 E io Più potente Del 2006 Impossibile E lui mi fa Buonanotte Fabri Sogni d'oro Sognati che domani Tu avrai l'Atari E io Sogno che domani Ci avrò il Master System E dico in che senso E ho deciso Che ti regalo Il mio computer E quello è stato Il mio primo computer Che mi ha regalato Mio fratello Che era l'Atari 2006 Però cosa ho fatto Il giorno dopo Ho visto il Master System E io ho fregato Il Master System Giustamente a mio fratello E da là È iniziato il collezionismo Perché io e mio fratello Si mettevamo a piange Perché eravamo giustamente Bambini E per far comprare Videogiochi dai genitori E mi ricordo Che mio fratello Stava con la febbre A 39 Mi ha dato 39.000 lire Manca a farlo apposta Febbre a 39 39.000 lire E tu vai nel negozio Si chiamava Anna Stasignora Vai da Anna E fatti Prende un gioco Di botte Il gioco si chiama Black Belt E il disegno È un piede Che sta da un calcio Io però Vado con i soldi Da sto negozio Che c'eravamo davanti casa Vedo il negozio Di Topolino Vedo il videogioco Di Topolino E mi compro Il videogioco Di Topolino Era Castello Billusion Si vado da mio fratello Gli ho fatto Andrei guarda Guarda che ho comprato E lui mi ha ammazzato De botte Mi ha proprio pestato Come l'uva Però che è stata La cosa è che dopo Ci ha giocato più lui De me Perché il gioco Il gioco era molto più Cioè L'ha coinvolto anche a lui E una settimana dopo Rimettiamo i soldi da parte Con la paghetta E compriamo anche Black Belt Che si rivela Un gioco che è entrato Nella storia Che era il gioco Di Keneshiro Si 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 E niente E Giocavo talmente tanto A Castello of Illusion Che adesso ci faccio Le speedrun Lo finisco in 12-13 minuti Quel gioco Quindi Lo so a memoria Quindi E da lì è nato il tutto Ogni volta che usciva Una console E poi la compravamo subito Tanta roba E Invece Pensavo Da Dove nasce Da dove nasce L'idea Del Do you remember Cioè Quella è Perché Far nascere Questo format Oltre a farlo Conoscere agli altri Aspetta Ti faccio vedere Al volo Scusate il pijama Ma Allora Vai tra Ecco qui Tutto nasce Dalla rivista Lavoravo per PSM Si E ogni tanto Facevo degli articoli Che parlava Del passato Si E piaceva moltissimo Questa cosa E io Io iniziavo Sempre Ogni articolo Con Do you remember Che ne so Il gig tiger Do you remember Il master system E su youtube Ho visto che non c'è stavano Praticamente Dei format Che parlavano Negli anni 80 e 90 E sono stato Il primo Non dico Cazzate Sono stato il primo Su youtube italia A portare un format Che parlava di giocattoli Film e serie tv E sigle dei cartoni animati Che all'epoca Non si trovavano Sigle dei cartoni animati Vero Cosa è successo Purtroppo Dopo un po' di tempo E' arrivata una cosa Chiamata copyright Su youtube Non potevi più caricare Sigle E cose Con i copyright E ho dovuto togliere La serie di Do you remember Una volta che l'ha arrivata Ormai al 25esimo episodio La rivista di PSM Mi dice Guarda Puoi continuare A parlare di cose Degli anni 80 All'interno della rivista E Do you remember Si è spostato Sulla rivista dei videogiochi Aspetta che Non so se vi faccio vedere Se c'è sta Eccola qui Quindi questa era Proprio l'impaginazione Con tutto Do you remember E E' andata avanti Per 13 13 mesi Dopodiché Comunque Ho fatto altro Su questa rivista E mi sono spostato A fare anche Altri progetti Il problema E' che Avendo tolto Do you remember Sul mio sito Di youtube La gente Se ne è approfittata Per parlare Anche loro Degli anni 80 E 90 Con la mia Fortuna Che all'altro E' andata meglio Perché giustamente Avevano più Numeri di me Ed erano Le stesse persone Che poi nei commenti Dei miei Do you remember Mi dicevano Sta serie fa schifo Non interessa a nessuno Quindi la coerenza Io però mi ricordo Che saluto Che uno dei tanti Che guardava La serie era Matteo Montesi Che saluto Che in ogni episodio Che stava sempre Viva l'anno 80 Mi scriveva Delly Mellov Che saluto E io Tobi Ogni tanto Guardava qualche episodio Rimaneva incantato Tra Che ogni tanto Mi prendeva anche in giro Mi ricordo perché Diciamo Becco un congiuntivo Ogni morto De Papa Ma prima ero peggio Nel senso Dicevo Icona Invece che Icona Capire al contrario Cioè Sbagliavo in tutti i modi Quindi tra colleghi Ce si prendeva per il culo Beh si stava Però era una cosa genuina Questa è la differenza Qual è il problema? Cercavo di parlare Più italiano possibile Per prendere Più pubblico possibile Perché comunque Il PO3D Non è quello che vedete Oh Rimorteci Vostri fregni A buco dei culi Cioè No Era un mio personaggio Che facevo Negli anni 2000 Sì Quando facevo Il cabaret Nei vari pub Di Roma La stand up comedy La stand up comedy Ma non sono così Quando adesso Sto riportando Do you remember Sul canale Avendo fatto anche Scuola di doppiaggio Edizione Eccetera Cerco di parlare Il più italiano possibile E molti miei utenti Non ci si ritrovano Dicono Chi è questo? Me prendono in giro Non mi piace il modo In cui parli Ragazzi Sto cercando di parlare In modo più Genuino Possibile Metti caso Sta serie piace E la vogliono acquistare Io cosa ho fatto? Gli episodi che ho Da furbo Ce li ho tutti Ancora da montare Anche in un'altra cartella Senza audio Solo immagini Ah Capito come? Capito In modo che gli utenti Se vogliono Voglio fare una cosa Open source Più in là Gli utenti Possono ricaricare Dirò come fare Con i file L'episodio Doppiando solo Per cazzi loro Capito cosa? L'idea è Figa Capito come? Molto figa Sì E Non ci saranno Neanche le parti Dove parlo io Ma ci sono solo Le parti montate Non so se mi spiego Sì Capito come? Anche magari Anche magari Scusa Voglio fare cinque episodi Perché per adesso Ho fatto cinque episodi La dico a voi Io ho contattato Anche Netflix Per questa cosa Beh Vi dico questo il perché Avete presente la serie I giocattoli della nostra infanzia? Sì Sì assolutamente E Higscore Ce l'avete presente? Assolutamente sì Dio Facendo il caso Il logo di Do You Remember È un richiamo ad Higscore Iguale Anche la sigla Esattamente E Praticamente No però qua Non è vero Scusa La sigla Che ho fatto Di Do You Remember È un remake Della sigla Delle mie live Che ho fatto sei anni fa Certo Però Però mi ricorda troppo Mi ricorda troppo Higscore Sai cosa ti ricorderà Di Higscore Do You Remember? Le parti In pixel art Perché da lì Esatto Ma Anche il documentario Della storia di Youtube Italia Se tu vai a vedere È un rifacimento Ai giocattoli Della nostra infanzia Perché ho fatto questo? Perché sono amico Del regista Dei giocattoli Della nostra infanzia Da Higscore Che siamo amici Su Instagram L'amicizia è nata Con una cazzata Nel esempio Per esempio A me piace rifare le intro Non so se avete visto Io ricreo le intro Di After Effects Una volta rifatto La intro identica Ai giocattoli Della nostra infanzia E ho taggato Netflix Così E mi ha scritto Un tizio Che si chiama Ve lo dico Perché comunque Vabbè Sono incoglionito Allora Eccolo qui Brian Ball Ok E mi ha scritto Geniale E identica Io ho detto Vabbè chi è questo? Sono andato a vedere Ed era il regista Dei giocattoli Della nostra infanzia E mi ha iniziato a seguire E lui mette like A tutte le cose nerd Che ho nella stanza Ok Gli ho scritto Un paio di volte In privato Mi ha risposto Una persona gentilissima Di San Francisco Che è la mia città Preferita d'America E mi ha dato Anche qualche spoiler Che però non posso dire Dei prossimi progetti Che ha Capito come Ma riguardo Sempre questo ambito I giocattoli Della nostra infanzia I film della nostra infanzia E X-Core Mi ha raccontato Anche quando uscirà La seconda stagione Di X-Core E mi ha detto Una cosa che a me Mi ha mandato avanti Ha detto Non ha nulla da invidiare Ai prodotti Netflix Quello che stai portando Su YouTube Beh Non ho nulla da ridire In merito Perché veramente C'è qualità E ti dirò di più L'idea di portare Di rendere possibile I tuoi prodotti In maniera open source Può rendere Magari un ridoppiaggio Per le altre lingue Uno ad esempio Io mi sono salvato Tutti i file In modo che comunque Ci possano ridoppiare sopra Sì Ma non solo Le panze Io parlo Dove dico Ragazzi Qua Mi trovo in culolandia Dove oggi vi parlo Quelle volendo Le possono ricreare Sì Una cosa del genere Se voi avete Conoscete Barbascura Ovvio Ovvio Non Di fama Non lo seguo Però È un mio grande amico Ogni tanto Gli do una mano Anche a montare i video Lui ha fatto una serie Su D-Max Ultimamente Che sono Dei spezzoni Suoi Dove poi Sono collegati A una serie Americana Se tu vedi La serie originale Americana Non c'è Barbascura C'è un tizio Che parla Di questa serie Degli insetti In Italia Abbiamo fatto la stessa cosa Ma abbiamo preso Barbascura Ok Io vorrei fare La stessa identica cosa Se il prodotto Andrà alla grande Ma spero Ma Cioè io ormai Non ho fiducia In ciò Però io me lo spero Con tutto il cuore Se qualcuno Vuole acquistare Questo Prodotto Ci può doppiare sopra E ricreare le scene A cazzi suoi Io Di quello che gli voglio fornire Io Sono solo le scene montate Tutto qui No ma infatti Come dice Alex La qualità Sta soprattutto Sul fatto che tu La cosa che mi è sempre piaciuta di te Da quando ti seguo E non è una sviolinata E la verità È che non sei banale Cioè A te non ci voleva niente Ripigliare Che ne so Due pubblicità Anni 80 Un paio di giocati Un paio di cose Due stronzate Finisce là Questi erano gli anni 80 Avete visto quando erano belli No Se tu sei andato nei particolari Nei dettagli È quello che vorrei fare I tuoi ricordi Nei ricordi un po' di tutti Sui leitmotiv Sulle cose ancora Cioè Io l'ho scritto Pure nell'articolo Che ho scritto su di te Sul fatto che ci sono Delle cose Di linguaggio comune Cioè Da un pennello Da un grande pennello Un pennello C'è un grande pennello Sono cose che si ricordano Ora nel 2020 2021 Cioè I tabù Che ne so Vabbè Ci sta Quella Una persona di colore Ora si potrebbe proporre più Quella cosa Però molta gente si ricorda Quelle cose La cosa che mi butta giù Ma come mi ha detto anche Ricito di nuovo Barbascura Che saluto Che è un mio grande amico E tu ti devi ricreare Ormai un pubblico da zero Perché purtroppo Il pubblico Che tu ti sei fatto Anni fa È stato grazie alle collaborazioni Ed è vero Però questa cosa a me Mi butta giù Perché Dopo 16 anni di youtube Riniziare da zero Non è per me Sinceramente Io continuo a fare Quello che voglio Quando voglio Quando posso Più che altro Perché ho anche altri lavori Da fare La cosa che mi dispiace È che secondo me Ma non è perché È un prodotto mio Secondo me Questo Non è Un prodotto Da 1500 visualizzazioni Cioè Sembra Una sviolinata Come hai detto te Da parte mia Però Mettetevi l'anima in pace Guardate il montaggio Che c'è dietro E ditemi Sinceramente Se è un prodotto Da 1500 visualizzazioni Ma non ho perché Comunque voglio più soldi O altro Il problema è che La gente non lo sa L'ho fatta vedere Nel secondo canale Ci sono anche 15-16 giorni Di seguito Di lavoro dietro Ti dico Ti dico Io vabbè Non c'entra niente Ho studiato grafica E adesso Sto continuando a studiare Però Fatta vedere Ad un tecnico Che comunque Lavora in questo ambito Cioè Non c'è proprio Niente da dire A mani basse Dice No cacchio Questa È un'opera Cioè Mi sono sentito dire questo Perché è veramente Molto ben fatta Io ti dirò di più Anche sonoricamente Si sente che c'è una Ottima cura dell'audio Anche i suoni che metti Anche le reference che metti Piccolo esempio banale Su iScore A un certo punto Parlano delle chicche Ad esempio Tipo di Kirby Del perché hanno scelto Il nome di Kirby Anche tu ci ficchi Non voglio spoilerare Però anche tu ci ficchi Dentro Quel tipo di chicche Che sono più o meno visibili Ed è questo secondo me Oltre a uno storyboard dietro Che valorizza Il tuo prodotto Ma guarda Io Ogni volta che devo iniziare Alla scrittura Di un episodio Io mi ricordo che C'è ancora la live Su YouTube Potete andarla a vedere Sono stato ospite Dai Player Inside Grandissimi Stavamo parlando E Raiden mi disse proprio A me piaceva un sacco La serie che portavi Ti do you remember E io manco a farla apposta Gli ho detto Ma lo sai che sto scrivendo Una nuova stagione Lui mi ha detto Portala Portala immediatamente E quella mi ha dato Una botta ed emotiva Per finire la scrittura Del primo episodio Tanto che Io il secondo giorno Già ho caricato Il primo episodio Su YouTube Però che io stavo facendo Do you remember Avevo lasciato già Degli indizi Su Instagram Un mese prima Perché Ti ricordi di cosa abbiamo parlato Il primo episodio Di do you remember Dei 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 Esatto Guarda cosa vi faccio vedere Cosa ho fatto Un mese prima Non so se si vede Sì 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 Visto Quindi vi stavo già lanciando Qualche Frecciatina Qual è il problema Secondo me Io Non voglio Perché Molta gente Mi dice ormai Che io sono il piagnino Quello che si lamenta Quello che è depresso Ci avrà un sacco Di problemi ragazzi Io lo ammetto Che c'è un sacco Di difetti Però L'unico Cosa che Sento in dovere Di dire È sempre la verità Ora Voi siete testimoni Ma metti caso Un format del genere Lo portava una persona Più famosa Secondo me Non esplodeva Tu dici sì È una cosa banale È normale Che una persona Che comunque C'era più numeri Gli faceva più visualizzazioni Ma la cosa che a me Mi dà fastidio Veramente tanto Se dietro le quinte Ci sono molti Youtuber famosi Che amano La mia serie Perché Non la fanno conoscere Rimane sempre Questo punto interrogativo Io non sono uno Che né cerca Visualizzazioni Né vuole la fama Negli iscritti Quindi non Prendete con le pinze Quello che sto dicendo Perché dopo la gente Si pensa che io cerco Condivisioni Eccetera No regà Voi dovete fare Quello che mi sentite Però Se tu A me mi ha contattato Uno youtuber Con oltre un milione E mezzo di iscritti Mi ha detto Pio complimenti Una delle serie Più belle Che ci stanno Su youtube italia Peccato Per le visualizzazioni È È Tu c'hai un milione E mezzo di iscritti Potresti fare qualcosa Capito? Basta Condividere Basta Non parlo Di condivisioni Perché a me Io Allora Dopo 16 anni Su youtube Vi dico che Le condivisioni Non servono a un cazzo No ma Non condividere Nel senso Perché io stesso Che condivido una cosa Non se la cagano Io penso che la mia La mia serie deve Deve Non so come spiegartelo Deve cicciar fuori Agli utenti Che amano questa serie Così De botto Per puro caso Se gli piace La seguono Però Se tu Hai Un milione e mezzo Di iscritti E passa E al tuo pubblico Gli dici Ma lo sapete C'è Pio In quel senso Condividere In quel senso Non dico proprio Condividere Ma Beh faccio un esempio Come faccio io Nei miei vlog Tu sai che io Comunque Nel secondo canale Consiglio canali Sì Nei video Sì Non è detto Che porto utenza Però è capitato E ci stanno le prove Che quando è tornato Su youtube Fuoco di Prometeo Che saluto Sì Feci un video L'ho detto Ragazzi Ma lo sapete Che è tornato Fuoco di Prometeo Quel video A me mi ha fatto Un boom di visualizzazioni Il 90% dei commenti Era porca miseria Non sapevo Fosse tornato Grazie Per avermelo detto Io Che all'epoca Comunque Avevo 10.000 iscritti Sul secondo canale Il video Mi ha fatto 5.000 6.000 visualizzazioni Oltre 400 commenti Più o meno erano così Io Comunque non sono nessuno Ho portato Una piccolissima Non dico Da utenza A un canale Che per me È solo un onore Se lo fa un canale Grande Non dico che Per forza Mi possono iniziare a seguire Però Possono iniziare a seguire Un format Simile Che forse Grazie a me Ne conoscono un altro Su youtube Non so se mi spiego Colto perfettamente Il punto Grazie a me Possono conoscere Un canale Che saluto Che a me piace tantissimo Che è un canale Che riuppa Le pubblicità Agni 80 e 90 Sì Ok Io quando faccio Do you remember Mi capita sempre a destra Il suo canale E se metti caso Non ti piace il mio canale Ma può interessarti Quell'altro canale Questo significa Ingrandire la community Sì Perché È la logica Che ci stava dietro All'inizio A youtube La logica Dietro Proprio Ma ti piace un altro canale Capito come Tutto qui Infatti io ricordo Che voi Fra di voi Vi conoscevate tutti Vi collaborate Fra Cioè Forse Solo Solo Will C'è andato un po' In la sua strada E Frank Marano No Allora Vi conoscevate Vi voleate bene Fra di voi Qua ti recupero Perché I primi anni Su youtube Eravamo in 5 o 6 Ci stava Will Wush Che è una persona Fantastica Che faceva Le parodie Con la parrucca C'era Frank Marano Che faceva Gli scherzi telefonici Clio Makeup Che faceva Praticamente I trucchi Poi ci stava Zeb 89 No Zeb 89 È venuto dopo C'era Gli HMAT Che facevano Le cose musicali E Canesecco Che faceva Le cose un pochino Più particolari C'eravamo noi Che eravamo i Coglio In Sunside Che facevamo Le parodie Quindi eravamo pochi Ma tutti conosciuti Se conoscevamo tutti Che anche se comunque Non si scrivevamo Sotto i commenti Nei video di youtube Quando c'erano le conferenze I vari eventi C'è si abbracciava tutti Io mi ricordo che Una cosa che mi rimane Nel cuore Che l'ho pure pubblicato Su instagram Ci hanno invitato Le iene Per un programma Chiamato pop up Io da lontano Mi sono sentito fare Oh via Mi giro Era Frank Matano Fatti offrire il caffè Sei simbaticissimo Ci siamo messi a parlare Di Gerry per ore Con Frank Matano Che all'epoca C'aveva Non il triplo Il quadriplo Degli scritti nostri Capito com'è Ed era una cosa genuina Stessa cosa Willwush Willwush L'ho conosciuto Purtroppo Dopo qualche anno Però lui mi conosceva Ah si ti conosco E mi disse Sta cosa mi rimasta nel cuore Hai troppe diramazioni Ovvero La gente O ti conosce per Pio O ti conosce per i coglioni Insight Perché la gente Si disperde Infatti era vero E vedo com'è E poi ci siamo messi a parlare Abbiamo fatto una collaborazione Gli ho regalato il tapiro Abbiamo fatto un'intervista E all'epoca era Più genuino il tutto Stessa cosa con Yotobi Dopo ho contattato Yotobi Dopo due o tre anni Mi ha detto subito Sì facciamo un video Cioè Anche adesso Se io mando un messaggio A Frausi Parliamo di videogiochi Ad altri youtuber come Yotobi Mi rispondono Non so io che chiedo Perché non mi va più Di chiedere le cose Ma perché Non lo so C'è Forse Dopo tutti questi anni Sembra banale come cosa Ma mi sono veramente Buttato giù Mi sono rotto i coglioni Sinceramente Non c'ho più la voglia Di stare dietro Di provarci Perché adesso Sto facendo do you remember Perché è una cosa che mi piace E' una cosa che mi piace Parlare degli anni 80 Quindi Lo dico qui E lo ripeterò A infinito Se va bene la serie E' bene Se no sti cazzi C'è Campuguale No no Ma arriva lo suo Sì questo sì Basta che piacere a te Poi per il resto Amen Sì sì Se va o no Un altro che Un altro che Io paragono a te Che è bravissimo Come te Che per forse È molto conosciuto È molto conosciuto Ma non più di tanto È qua Sì Che ha lo stesso modo di fare Di essere dettagliato Nelle cose Però non ha raccimolato Tutto quello che meritava Marco Merrino Intendi no? Sì sì Marco Merrino Marco Merrino C'è una bella utenza Però Si è ripreso un po' Con Twitch Perché io Non l'ho visto Non ha mai avuto Tant'anni Veramente Sì non è mai Una frequenza Se non veramente Mette i puntini su lei Io Non capisco Perché Dr.Gamer C'ha così pochi iscritti Vero Sì questo L'ho chiesto pure io Vero È Dr.Gamer Che merita Migliardi di iscritti Dr.Gamer è un canale Che secondo me Merita un milione Milione e mezzo Di iscritti Per quello che Per quello che piace a me Su Youtube Nulla da togli a Marco Merrino Sia chiaro Marco Merrino Io lo adoro Però Siccome a me piacciono Mi piacciono i videogiochi Retro eccetera Secondo me Dr.Gamer merita molto di più Tutto questo Io Dr.Dem lo seguo Dal suo secondo video Che ha fatto Mi ho capito Per sbaglio E da allora Lo seguo apertamente Gli ho scritto Mi sono Ho acquistato La sua Playstation 2 Ho acquistato Quindi Mai Mai Grazie per il ride Quindi Quindi la mia Non è una Richiesta d'aiuto Ai miei colleghi È soltanto L'unica cosa Che ripeto Se ti piace un prodotto Non sto parlando del mio Ma Parlane Che sia un prodotto mio Di un tuo amico Di un tuo collega Non lo devi fare per forza Però ad esempio Io Nel mio piccolo Lo faccio E aiuta Se a te veramente piace Un prodotto Di un tuo amico Collega Quello che è Parlame Perché Ma perché Infatti La tua fanbase Hai un piccolo potere In mano Con la tua fanbase E se puoi fare un favore A una persona Che merita Perché Ma non si tratta Di favori Una cosa Una Come devo spiegarla Io ricordo Io ricordo Quando ho aperto Il secondo canale Che adesso è diventato Il cessione di Pio Ma all'inizio Era Pio 4k Mi ricordo Che Joker Ha condiviso In community Il mio canale Che ho scritto Ragazzi Pio Si è aperto Il nuovo canale Iscrivetevi A me Mi ha portato 10.000 iscritti Capito come Quei 10.000 iscritti Non mi seguono più Perché L'ha detto L'hanno fatto Ma perché era Joker Capito come Si 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 Che l'utenza sua Mi segue Capito Però intanto L'ha fatto Capito Il gesto L'ha fatto A me mi ha fatto Un botto piacere A voglia Capito come Ti ricordo Che pure Joker Fu un altro Che come te la pensai Era dispiaciuto Dalla mancanza Di collaborazione Anche lui In piange La vecchia youtube Dove tutti Si si Ma quindi Si si Ma quindi Lo ha fatto Joker Lo ha fatto Joker Che comunque porta Fortnite E giochi di FIFA Quindi con la mia utenza Non c'entra un cazzo Immagina invece Se un gesto simile Lo fa Una persona Che comunque Porta un format Che può piacere Al suo pubblico Non so se mi spiego Si 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 Assolutamente Perché quando faccio Le collaborazioni Perché comunque È raro che faccio Adesso collaborazioni Però quando Cerco di consigliare Un canale Sul mio secondo canale Prendo sempre canali Che può piacere Al mio pubblico Perché so che Se io gli parlo Di un gioco di calcio Al pubblico mio Non gli ne frega un cazzo Perché so che Comunque al pubblico mio Non gli ne frega niente Capito Chiaro Capito Capito Perfettamente Giusto per ricollegarmi Un po' al passato C'è da dire una cosa Fondamentale Che sia te Sia Ronin Vi piace Final Fantasy Solo il 7 dai Non esageriamo Solo il 7 Io ho raccontato L'intera saga Ho fatto l'intera Ritrospettiva Andatela a leggere Perché ne vale la pena 7 9 Che è molto Molto bello Quindi Del 7 C'ho 8500 euro Di merchandising Che Faccio vedere al volo Nella vetrina Non so se si vede Quindi Con la spada Che poi la gente Entra nelle mie live Dicevo C'è la spada Di Bercek Fa male Un pochino Però boh Ci sta Fa veramente male Ragazzi Quindi Io Quello Fu Noi ci ricordiamo Tutti ai tabi Della Playstation Che giustamente Molti pensavano Che si facevano In Marocco I giochi Della Playstation E sappiamo il perché Fu il primo Gioco originale Che comprai Quale? Il 7? Sì sì E ora C'ho tutta la collezione Di tutte Di tutte le versioni Tranne quella americana Che costa morene Purtroppo E non ancora Me la posso permettere C'ho tutte le versioni De Final Fantasy 7 C'ho anche Quella che mi hanno dato Quando Lavoravo per la rivista Che è la versione Che danno ai redattori Ah Del Press Kit Sì A me manca solo Quella americana C'ho L'International C'ho la versione Giapponese La versione Platinum C'ho tutte quante C'ho pure poi Alcuni libri Riguardo all'argomento Mi manca solo Quella americana Ma Sotto i 3-400 euro Non me lo posso permettere Almeno sul momento E' l'unico pezzo Che mi manca No vabbè Ciao Gatto Allora Questa è la versione Che mi hanno dato Quando ero Come redattore Sì bella questa Molto bella Perché c'è scritto Grafica del 95 Cioè E' del 95 questa Mentre l'ultimo coppare E' stata questa qui Che era la demo Che davano sempre ai redattori Urca le demo Le demo Tanta roba Io da piccolo Ero stra-innamorato Delle demo Che mettevano Io ricordo ancora Quei famosi Quei famosi CD Che uscivano Con le riviste Dove c'era La prima La prima presentazione Del gioco Il primo video Una cosa allucinante Così che prima C'era Aeris Lo giocato è finito In inglese Nonostante io In inglese Ne capivo poco E niente E Beh Un'esperienza Io lo Lo ripeto Lo dico e lo ripeto Per me Ovviamente Il mio Modesto parere Il miglior gioco di sempre No veramente A questo Resident Evil 2 Ma Mi piace più La serie Silent Hill A dire la verità Però Resident Evil Sempre massimo rispetto Il Village Sì sì Tanta roba Considera che io Final Fantasy 7 L'ho giocato per anni Nel senso Ho iniziato nel 97 E nel 99 Io ancora giocavo A Final Fantasy 7 Con amici Quindi Ricordo La mia cameretta Piena di poster Di un mini televisore Perché all'epoca Potevamo permettersi Solo quello E con amici Ancora mettiamo lì A giocare Cercare di trovare Segreti Di Final Fantasy 7 Che la gente Ancora diceva Che si poteva Di portare in vita Aeris E cose vite E a Bocoville Se andiamo a vedere Le varie cose No la cosa Che ovviamente Mi ha fatto più dannare A quei tempi Ovviamente Trovare il ciocopo d'oro E allora È stata una cosa Trista Allora io riuscivo Sempre a fare Quello verde Con un attimo Ma quello d'oro Ci ho messo Veramente più di 6-7 mesi Perché vi ricordo Era un periodo Dove non c'è Internet Ragazzi O almeno internet C'è stava Ma era più di ricchi No Io ti tiro di più Invece Una rivista Uscì Proprio una guida Ufficiale Al libretto Sì sì Che spiegava Tutto quanto Tutti i segreti Dove trovare Tutte le varie Le varie Weapon Tutto quanto E nonostante Tutti il problema Sai qual è il fatto Che tu dovevi Spegnere E riaccendere La Playstation Perché Se tu avessi avuto Un pc Tu esci Un attimo E rientri La dovevi Spegnere la Playstation Ricaricare tutto il gioco Ogni volta No ma guarda Io mi ricordo che Era uscito Da poco PSM E ci stava già All'interno Tutta la guida E ti davano Proprio la bibbia Dei codici Con tutto Quella bibietta C'era bella arte Che ci stava scritto Tutto Però non c'erano Suoi segreti Per quello dove Dovi conosce Bene bene Il gioco Non che dopo Uscì proprio Una rivista che c'ho All'interno Della vetrina Che era di Game Machine Sì Che ci stava Tutta Oltre che tutta La storia Quindi ti spiegava Il gioco Per chi lo giocava In inglese In giapponese Ogni pagina Ci stava Veramente Da pazzi Una cosa del genere Da pensare I dialoghi I dialoghi In italiano Mamma mia Se tu praticamente Ce l'avevi in giapponese O in inglese C'erano i dialoghi In italiano Ma stiamo parlando Del 97 98 Che era una cosa incredibile Di tutto Era da Folli Che ti diceva Ad esempio Vai qui Premi due volte X C'è la materia Qui puoi potenziare Questa materia Quindi grazie a quella rivista Sembra una cosa banale Ma il gioco lo finivi Nel triplo del tempo Perché mettevi in pausa Leggevi Provavi a fare L'identica cosa Li mettevi in pausa Ti allenavi il personaggio Era una cosa Che a pensare oggi È da pazzi Perché con internet Lo dice proprio Aigscore In una puntata Del Nintendo Dice Adesso con YouTube È facile Ti blocchi in un punto Vai vedere Hai fatto All'epoca Non era così All'epoca O chiamavi La centralina La centralina Sì 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 La nostra Italia Ricordiamo che non ci stava È vero All'epoca avevamo le riviste E tu compravvi Una rivista All'interno Ci stava scritto La mega guida Di Super Mario Bros La mega guida Di Battletoads E tu dovevi Comunque trovare Il videogioco Che dovevi finire Per culo Nella rivista Perché non è detto Che comunque C'è stava la guida No che infatti Io mi ricordo Pure ai tempi Dell'Amica Quando ci stavano Io non so Se ti è capitato Di andare sul nostro sito Io sto facendo La retrospettiva Sui punti e clicca Ok Sono arrivato ora Alla seconda parte E a quei tempi Mi ricordo Soprattutto Io compravo K Sia K Game Machine Zapp E ti spoileravano Quello che usciva Al numero dopo Tra cui le Le varie guida Lo facevano a posto Lo facevano a posto Come un tossico Come un tossico Un mese Era aspettare Che usciva quella rivista Per poter Andare avanti Eventualmente Avere quel codice Quel qualcosa A proposito di punti e clicca Un mio professore Di doppiaggio Che saluto È stato uno Dei protagonisti Che ha dato la voce A un punti e clicca Molto famoso Qui in Italia Manny Rivera Esattamente Ok Renato Cecchetto È stato uno Di miei professori Di doppiaggio Persona fantastica Lo devo intervistare Prima o poi Lo devo intervistare Prima ha detto Che non c'è problema Ha detto Quando vuoi Ma tu Con gli home computer Hai detto Hai avuto il comodo 64 Che hai avuto a chi fa A parte il comodo 64 No no Il comodo 64 Io non lo sapevo avviare Perché Era di mio cugino Mio cugino Lo portava In continuazione A casa mia Perché Casa nostra All'epoca era strana Nel senso Era una casa Divisa in tre Era un appartamento E a ogni piano C'è stava un cugino Che è vero come Tu basta che aprivi la porta E ti trovavi Ti trovavi Tu cugino In casa Capito come Sì sì E quindi Noi avevamo Master System Con l'Atari 2006 Mio cugino aveva L'Apple L'Apple 2 Plus E un altro cugino Aveva il Commodore 64 Mamma mia La sera Collegavamo Le console Ai vari televisori E si giocava Mi ricordo che Un gioco Che mi ha fatto Mettere a piangere Per quanto era Violento Che era Brutal Non so se ve lo ricordate Mi suona L'ho sentito nominare Mi suona il titolo Mi suona Allora quel gioco Che era Simile a Golden Axe Sì Sì E praticamente Tu dovevi premere il bottone Quando te lo diceva lui Per sferare un attacco E all'epoca E all'epoca era un gioco Che tu vedevi sangue ovunque Capito come Era una cosa incredibile Per l'epoca Capito E mi ricordo Che poi Mi ero fissato Con l'Apple 2 Plus Di mio cugino Perché ci stava Un gioco Molto famoso Che hanno citato poi In Highscore Che era Mystery House Uno dei più famosi Di sangue L'avventura testuale Se non sbaglio Quella da comando Tipo Però io non sapevo l'inglese Che io non sapevo l'inglese Qual è il problema Che io adesso L'Apple 2 Plus Lo sto cercando Come il pane Perché è lo stesso pc Che hanno utilizzato Nella serie tv Lost Per premi di numeri Uh Ho già capito Cosa vuoi fare tu Eh io lo vorrei Ma Costa 600-700 euro Regà Tu vuoi fare Tu vuoi fare La puntata dedicata Con anche Eh sì sì Ci ha beccato Ti conosco troppo Io Eh sì Eh sì Anche io adesso Non posso Perché comunque So scannato In questo periodo Perché ci stanno Bollette da pagare Eccetera A me si è rotta la macchina Non vi dico Però all'angolo Della mia stanza Voglio fare una stanza Tutta dedicata Agli anni 80 Quindi televisore Di una volta Le VHS Videoregistratore Le VHS Tra cui ci voglio mettere Anche l'Apple 2 Plus Quindi Io almeno Almeno il mio Amiga 500 C'ho ancora Quello di allora C'ho Allora C'ho C'ho dovuto ricambiare Due volte Il lettore Floppy Ma c'ho ancora Quello Io me lo ricordo Ancora come se fosse Oggi Io sono stato Fortunato Io Vivevo solo di Sala giochi Il mio primo gioco In assurdo Fu Ghost and Goblins Ah ok Sì avevo bisogno Della cassetta Della vita Per salirci Sopra Per giocare Poi sai come Quando era facile Quel gioco Se arrivavi al secondo livello Eri un pro Dopodiché Mio fratello Vince a una lotteria Uno ZX Spectrum 128K Che Tuttora ce l'ho Buttato Non so se funziona ancora Poi dopodiché A un'altra lotteria Vince il compito A 64 Mio fratello Però Era già un po' Obsoleto A dire il vero E mio fratello Me lo sono tenuto 10 giorni L'ho arrivato indietro E la modica Cifra di un milione Di lire Portò Il periodo di Natale L'Amica 500 Cioè là proprio Piangevo Non so se era Per la felicità Per l'emozione Fu una cosa E ripeto Poi sono andato Davanti solo di computer Poi The Last Ninja Non so se te lo ricordi Certamente The Last Ninja Per Amica C'avevo quasi tutto Perché a quei tempi Purtroppo fu Croce e delizie Della Amica 500 La pirateria Io mi ricordo Il porting Di Street Fighter 2 Per Amica Che era tanta roba Beh Nonostante quello Nonostante quello Per il Mega Drive Era il top Non so se Non so se vi ricordate Ma anche Adesso non c'entra niente Però per Nintendo In realtà L'hacking Delle 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 schede madri Dei Delle console È stata in realtà Una delle salvezze Se non ricordo Male Per l'azienda Ragazzi Comunque Mi Correggo Il gioco Non si chiamava Brutal Ma Barbarian Ok Ah Barbarian Allora Sì Barbarian Sì Barbarian Sì Ricordate Ricordate la serie Dragon Slayer Madonna Mamma mia Dragon Slayer Space Ace Paperboy Ragazzi Quando ho visto Paperboy La prima volta Mi stava a mettere a piangere Per quanto era bello De grafica Cioè Paperboy Era tanta roba Allora ragazzi Assolutamente Non so se mi spieghi Io ho dei flashback L'avrò detto mille volte Anche nei miei video Che vivo In America Precisamente A San Francisco E vivo in una di quelle strade Dove c'erano i ragazzi Che lanciavano i giornali Alla Paperboy Io ho questi flashback E non riesco a capire perché E un'altra Un'altra cosa Dei flashback Che è È che L'ambientazione Mi ricordano molto Quelle di Astoria Dei Goonies Sì E quindi C'è il mare La sponda Con i Come si chiamano Con questi cazzi di scogli E non riesco a capire il perché Quindi ogni volta Che io vedo il gioco Di Paperboy Mi viene in mente La vita passata Che comunque Non mi appartiene Non capisco il motivo Raga Cioè ancora oggi In realtà In realtà c'è un motivo Ma dovresti indagare Però È veramente curiosa Come cosa Che tu hai dei ricordi Comunque di una vita Passata Che non hai Avuto Cioè Anche correlati al mondo Del gaming Magari Che ne so Eri Uno sviluppatore Noto Che Produceva Chi lo so Vabbè Vita passata Oddio Sviluppatore noto Un po' Può darsi pure Che il tutto Fa parte di un sogno Che c'ho avuto da bambino E mi è rimasto Talmente tanto in testa Che potrebbe Che io Che io Lo collego Come Come flashback Di vita vera Quando invece In realtà Erano soltanto sogni Che c'ho avuto da ragazzi Non si sa Regà Guarda che il cervello umano È una cosa incredibile Quindi Quello Quello è veramente C'è vero Quando arrivi di Gunis Proprio respiri Anni 80 Vabbè Ma di Gunis Faccio la mappa Non so se vedete Regà Io di Gunis C'ho il libro Utilizzato nel film Gunis è stato Il mio primo film Che ho visto da bambino Anche se comunque Non c'ho ricordi Di quella giornata Ma mio fratello A tre anni Mi ha portato al cinema A vedere i Gunis Io non mi ricordo un cazzo Perché ero bambino Però Potrebbe essere La canzone di Cindy Loper Proprio Respiri Anni 80 In un modo allucinante Perché io poi Sono partito di wrestling Cindy Loper Ha fatto parte Del wrestling A quei tempi Sì sì Anche Andy Kaufman Pure In quel periodo Sì vabbè Andy Kaufman Poi Che Jim Carrey Vabbè Sì sì Ma guarda che comunque Molta gente Da una parte Ci ha preso Perché se tu vai in casa Di Jim Carrey Ci sono merchandising Che appartenevano Ad Andy Kaufman Lui dice sempre Che l'ha presi all'asta Ma come fai Vedo come C'è un documentario Di Andy Kaufman Di Jim Carrey Su Netflix Penso che l'hai visto Ma io mi ricordo Ho visto il film Di Jim Carrey Che spiega Però se tu ti vedi Il documentario Di Andy Kaufman Cioè Di Jim Carrey Che interpreta Andy Kaufman Su Netflix Lo trovi I genitori In continuazione Ogni volta che lo vedono Si mettono a piange Capito? Una cosa infatti Molto particolare Fu che Jim Carrey Fece carte false Per fare quella parte Ma la cosa più strana È che è nato Lo stesso anno Lo stesso giorno Di Andy Kaufman Capito? Anche poi Andy Kaufman Ha fatto proprio Della sua vita Una bugia Si quindi E poi la cosa strana È che lui disse Si lui disse Io ritornerò sotto Un altro volto Fra un anno Un anno dopo È arrivato Jim Carrey Quindi sta cosa Fa riflette Qua c'è veramente Una live intera Da farla di Andy Kaufman No ma infatti Ma io Ovviamente Ero molto Molto piccolo E parecchie cose Del wrestling Le ho recuperate Dopo Quando ci fu La faida Tra Giardy King Loder Andy Kaufman C'è molta gente Diceva che erano Andati Pensava che erano Andati Veramente Fuori ruolo Per vedere Che loro interpretavano Un ruolo Dice che era Talmente realistico Che lui Si era veramente Fatto male Che si erano Veramente odiati Ma guarda Riguardo il wrestling Te posso raccontare Che uno dei ricordi Vividi Che ho in testa Erano gli anni 90 89-90 Era Natale E mio padre Sotto l'albero di Natale Mi ha fatto trovare Ultimate Warrior E Hulk Hogan Però erano quelli Che tutti lavi La cordicella E parlavano Sì Sì E mio fratello Era fissato Con il wrestling All'epoca Tanto che Tanto che All'epoca Poi mio fratello Si è fatto comprare Il videogioco De un wrestling Che come immagine C'era uno Che c'era la testa In mano In mezzo Che era una delle copertine Più brutte Del Master System Comunque Quella che ha parlato Pure Marco Merino Nel suo video Sì Esatto Ed era pure Un bel gioco Comunque all'epoca Guarda che Era un intelligence Artificiale Non indifferente Per quei tempi Era fighissimo Capito Come la copertina Però faceva veramente Cagare Oddio no Dipende Ripeto Io ricito Praticamente La rivista Di PSM C'avevo proprio Una sezione Dove parlavo Dei copertini Orribili E le valutavo Vedete C'è proprio La sezione Dei copertini Orribili Questa qui Parla di Megaman Tu dimmi Cosa cazzo c'entra Un personaggio Vestito di blu Con una pistola Non è Megaman È un uomo In tutù Vedete Sì È uno dei propri Degli Degli articoli Era proprio Su quello Di Wrestling Che non c'entrava Un cazzo Con la copertina Però c'erano Che tu dovevi Comunque sborsare i sordi Se eri la casa produttrice E farle per forza bene Perché doveva tirare Un tipo di pubblico Castle of Illusion Lì L'ha disegnato la Disney Ad esempio Sì Non puoi portare Un gioco Con un disegno Di topolino De merda La gente La prende per il culo Ma infatti Tornando a Vrestling Mi ricordo che parecchi Videogiochi di Vrestling Proprio random Avevano sempre Il classico biondo Quei baffoni Che ricordava Kogan C'è uno random Il classico Porno attore Degli anni 80 Sì Praticamente Sì Madonna No ma No ma Un discorso Con le pubblicità Di videogiochi Tutti Oggi sarebbero Improponibili Se tu ti ricordi Tutte donne nude Con il videogioco In mano O seminude Casino game Regà Casino game All'epoca Ha fatto scalpore Qua da noi C'era un gioco Che si chiamava Casino game Per il master system Che A parte che c'era Il gioco d'azzardo Ovunque Ma In continuazione C'erano donnine nude Cioè vestite Ma con i trucchi Sì esatto Erano fratelli Donnine Che se tu giocavi A poker Si spogliavano Però quel gioco Non c'aveva nessun peggy Nel senso C'erano giocavano tutti Beh non sarà ancora Mi ricordo Per Amica 500 Dove ci stavano Le ragazze renderizzate Addirittura Le fotografie renderizzate Per Amica Vabbè Se tu andavi in sala giochi C'era un gioco Che si chiamava Lady Killer Non so se ce l'è presente No No quello non mi ricordo Girls Panic Mi ricordo No Lady Killer Era un gioco geniale Secondo me Perché era un sub Che tu dovevi ribaltare Delle immagini Non so se ce l'hai presente No C'erano dei quadrati Ricorda un po' La schermata Della vostra live C'era questo sub Che tipo Lo mandavi sotto Quando lo facevi ritornare Ribaltavi La casella Che avevi deciso Dei fare ribaltare Ok Ok E ogni livello C'era un'immagine Di una donnina giapponese Che tu Avevi scelto all'inizio A seconda di quanto Premievi forte Il bottone Per riemerge Tu gli potevi togliere Strati dai vestiti Capito come Geniale E ti dovevi sbrigare A completare l'immagine Prima che Gli squali Sotto Di sotto Ti mordevano Quindi tu Completavi Tu completavi Il livello In continuazione Sempre con le cose Da Le donine nude Qual era il problema Che l'immagine iniziale Che ho scritto Start game Insert coin C'era un pupazzetto Che tutto Sembrava Tranne che Sozzo Come dice Pinco Quindi un bambino Che andava in sala giochi Metteva le 500 Di le giocava E si ritrovava Una con la fregnete fuori Capito come E il sottoscritto Ci era cascato Perché il protagonista Sembrava Nino il mio amico ninja Un bambino Vedi uno del genere Dice un ninja Con il coso Da sub Invece poi Select the woman Selezionavi Tu dici Vabbè La ragazza Che deve salvare No il cazzo La ragazza Che deve spogliare E non c'era Nessun cavolo Di peghi All'epoca Non c'era filtro Non c'era classificazione Capito come Esatto Esatto Infatti Secondo me Se legge L'ultimo commento Secondo me Se fai un bel bafab Su Twitch Sfondi Ad esempio Uno deve stare attento A portare il gioco Su Twitch Una volta mi ha detto Porta Lady Killer E io ho detto Oddio Lady Killer No Ho capito perché Mi vuoi far bannare Io ho detto E quello si è messo a ridere Quindi No ma Infatti Nel metà degli anni 80 C'è questo Erotico porno E i strip poker Questi giochi Io mi ricordo che Per l'amica 500 C'erano proprio Di giochi pornografici Veri e propri Ne creavano di tutto Ma boh Ma addirittura Se ne parlava Dove Ne ha parlato proprio Il Dr. Game Che è già I dati di Natale 2600 Cioè dei giochi Simil pornografici Fatti di pochi quadratini Ma però Più o meno Ti davano L'idea di quello Che era Ce ne stava Un altro simile Che invece Tu eri una zanzara Allora Io sto gioco L'ho recuperato dopo Perché me l'ha passato Il mio amico Che noi non riuscivamo A far avviare Praticamente Sul Sul meme Nel senso Sul meme Scusate Nel senso Era un gioco Che in sala giochi Era famoso in Giappone Da noi non l'hanno portato Invece il mio amico Mi ha detto Gioca So il gioco Perché è figo Ma non perché Comunque ci stanno Le donnine Ma perché Secondo lui Il gioco Era geniale Io dopo un po' De tempo Preso dalla curiosità Per il gameplay Non per le donnine Perché alla fine Le donnine erano Modelli in 3D Fatti pure male Perché ricordavano Veramente i poligoni Nella playstation 1 Ma il gioco era Tu sei una zanzara Che ti devi posare Su un vestito O dalla parte Che vuoi E rilasciare Con il culetto Una specie di Ragnatela Che tu dovevi riempire Il pixel Che ne so Il pixel del seno Capito Una volta che tu fai Il giro completo Gli esplode il pixel E ci sta Il vestito sotto Che in questo caso Era il reggiseno Ma più di quello Non vedevi Ok Qual è la cosa bella Che tu ti dovevi sbrigare Prima che lei prendeva Ad esempio O il DDT O la paletta E ti schiacciava Regà Il gioco era Divertentissimo Era divertentissimo Il gioco Se tu fai un gioco Del genere Adesso ti arrestano No Capito come Non riesco Mi pare che il gioco Si chiama Mister Mosquito Perché poi è stato portato Su Playstation Ma in versione Normale Non più soft porn Capito come Chiaro Ah si Non lo ha portato A Fraus È una Un'altra Di Sto gioco Mister Mosquito Infatti mi stavo ricordando Sta cosa Solo che là Mi sa che dovevi dare Dovevi succhiare il sangue Sì hanno fatto la stessa Sì hanno fatto la stessa L'antica cosa Però Stiamo parlando Dello stesso gioco Che poi l'hanno modificato Perché comunque Hanno capito che l'idea era figa Ma Poteva vendere più Se il gioco era meno pezzozzi Capito come Quindi E in Giappone invece C'hanno sta visibilità Ah poi in Giappone Poi Si sa Che tra virgolette La cosa più figa Siccome la marca del gioco Era della stessa Marca che ha fatto Deodora Live Uno dei personaggi Che potevi Sì esatto Uno dei personaggi Che potevi denudare Era Katsumi De Deodora Live 1 Sì sì Eccola Quindi Tutto torno Tutto torno La gente I giapponesi Si sbrigavano A giocare col gioco No veramente Veramente Era carina l'idea Però il giorno d'oggi Tu non puoi produrre Giochi del genere Che Siamo in un periodo Che Cito i Griffin Lois Griffin Che dice Non siamo più Negli anni 2000 Quando su MSN Puoi dire Quello che pensi Qua stiamo su internet L'era di Facebook Dove la gente Dà fastidio A qualsiasi cosa Tu dica Ed è vero Raga Purtroppo Internet è arrivato In un punto Dove Puoi dire Qualsiasi cosa Nel modo più normale Possibile Ma la gente Troverà In quel commento Qualsiasi cosa Che gli avrà dato fastidio Sì Anche un punto O una vera Che l'ha messa male No ma Ora Infatti Politicali Ha rotto i coglioni Ha rotto i coglioni Ragazzi Allora Io Ieri su Facebook Ho avuto Non una lite Però una discussione Con molti I miei colleghi Perché ho detto Che mi hanno rotto I coglioni Andare su Twitch E vedeste ragazze Sì Ho visto il post Hai visto il post No Io non ce l'ho Con quelle ragazze Hanno il diritto Di far quello Che gli pare L'unica cosa Che chiedo Una categoria A parte Perché Sono solo loro Sono solo loro Nella home page Non c'è niente di male Perché Quello no Guardate L'ipocrisia Della gente Se Dico Che mi danno fastidio Vedere delle donne Che comunque Si vendono Il corpo Per fare soldi La gente Trova il modo Per rompere i coglioni Se invece Faccio un post Dove dico Eh Però Le ragazze Se devono vestire Più Rompono i coglioni Se invece Faccio un post Dove faccio i complimenti Alla ragazza Perché è poco vestita Rompono gli stessi I coglioni Decidetevi Cosa volete Perché tanto Se dico A Se lamentano Perché dico A Se dico B Se lamentano Perché dico B Dite che Dovete solo Che cacare Cazzo Per qualsiasi cosa Dico E siamo più coerenti Sì infatti Io questa discussione L'ho avuta Similarmente Per il discorso Razziale Sul discorso Di Netflix A partire Soprattutto Da per dirti Da Death Note Cioè Ma Non ne parliamo Io mi domando E dico Ma Se io Per esempio Scrivo un libro In cui Ha travisato Come gli pare C'è una serie tv Sul Netflix Che io Non consiglio Proprio Fossi Netflix La cancellerei Si chiama Daybreak Ok Non ho sentito Non ho sentito L'attore Casualmente Il tizio di colore Perché lo picchia Oltre perché Di colore Perché è gay Però cosa si scopre Che da soli Scopano Quando non lo vede Nessuno trombano Sono amanti Cosa fai capire Al pubblico Giovane Visto che Quella comunque È una Una serie Per i giovani Che tu Se sei omosessuale Te lo devi tenere nascosto Se no ci prendi le botte Ancora Il giorno d'oggi Questa cazzo Di mentalità Capito come Cioè Ma cosa cazzo State facendo Raga Ancora Stereotipi Che il nerd Deve prendere le botte Il quadro Che deve essere Quello muscoloso Che è cattivo Ma sotto sotto È buono Cioè Volevate insegnare Una cosa Avete fatto tutta Un'altra cosa Che poi È in coerenza Due Siamo proprio Gli stereotipi Anni 80 proprio Esatto Come ha detto Pinco Per portare il nero Hanno fatto loro Un riferimento di razzismo Il nero È venuto a morire Sempre Ma basta Raga Ma stavamo nel 2021 Ancora Ma anche Se ci hai pensato Un attimo È marginale Ma anche il nuovo Lupin Venuto su Netflix Non l'ho visto Non ci tengo Io l'ho visto È stupendo Però là È stata travisata La cosa Esatto Lui doveva essere Il protagonista Era proprio Lupin Dice no Dice che il padre Leggeva i libri di Lupin E poi lui ha avuto Eccetera eccetera Comunque la serie Vedete Perché è veramente Molto molto bella Sì Ci sta L'unica cosa Mi ha dato fastidio Ho visto quel programma Cioè che Mi è piaciuto Però ci sta quella chicca Che ti infastidisce Sempre su Netflix Quella serie su Su Quei ragazzini Che danno una mano A Sherlock Holmes Mai visto Vedo Non mi ricordo il nome Ci sta Mi sembra proprio Ti sento la classica Barzelletta C'è un inglese Un italiano Un tedesco No Là ci sta Un ragazzo bianco Una ragazza Una ragazza orientale Un ragazzo di colore Un ragazzo c'è ci sta il biondo Con i capelli Con gli occhi azzurri Ci stanno tutti Cioè Questi caschi Li fanno con gli stampini Ma sempre per far Per dover Fare un favore Ma io Io non capisco Non capisco nel 2021 Perché bisogna ancora Evidenziare Io sono gay Io sono etero Cioè ma Per me che è la normalità Proprio La normalità Cioè la sessualità Io penso che non c'ha Ha bisogno di etichette Capito come Appunto Già che tu etichetti La cosa è per paratter culo Capito come la penso Sì sì Ok Io quando ero molto 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 Giovane e molto stupido Parlo di 12-13 anni Nel gruppetto C'erano i classici Ragazzetti Che Comunque Prendevano di mira Uno dei miei migliori amici Che è gay E io Ammetto All'epoca Era uno di quelli Che ci riteva le battute Ma non perché Comunque facevano ridere Ma perché il contesto Che al giorno d'oggi Se io vado a rivedere E risentire le battute A uno così Gli è meni Regà Capito Come ha fatto St'amico mio A far smettere I bulli Prendendosi per il culo Da solo È la cosa migliore Ha iniziato La cosa migliore Si chiamava E ma io sono ciuccio a palle La gente Se era stancata Deve praticamente Deve prenderlo in giro Se è stancato Non hanno preso più De mira E io penso Che al giorno d'oggi Vogliono fare la stessa Identica cosa Con la tv Nel senso Vogliono ne prendere Mira Negli stereotipi In modo che dopo Tutte stanchi A parlarne Non funziona così In tv Regà Sì però Il fatto più è che ci sono È vero come dici tu Però ci sono A volte Sembra che poi Li vanno a sviscerare Ne vanno a trovare di nuovi Una volta che si sono stancati Del vecchio stereotipo Ne vanno a trovare di nuovi Pur di far amore Di dar fastidio Cioè ed è una cosa Veramente patetica Cioè il fatto Io mi ricordo A me queste cose A me questa parola Mi dà fastidio Però la devo dire per forza Mi cringia parecchio Mi ricordo Quando uscì Della sto parte 2 Che hanno dovuto Evidenziare L'omosessualità di Alice L'hanno dovuto Evidenziare Eh ma a che serve La linea A che serve Regà A che serve Evidenziare ancora Le cose nel 2021 Capito come Che sono la normalità Sembra fatto Che fa parte Una parte importante Del gioco Ma che me ne frega A me Sempre in Dale break Questa serie Che a me mi ha fatto Veramente schifo Ho dovuto stopparla Perché iniziava In un modo carino Perché sembrava C'hai presente Quel gioco dei zombie Che per Xbox Non mi ricordo il nome Dead Rising Sì È vero che era Dead Rising Iniziava così Con Dead Rising Con il classico Ragazzetto Che ti parla Alla Ready Player One Ok Dal primo episodio Cosa hanno fatto Loro da Furby L'hanno fatto iniziare Con il botto Anche perché Se tu ti vedi Il trailer Dici ammazza Che figo Dopodiché Io vi dico Questa Vi mettete a ride La protagonista È una ragazza Che vuole scopare Con tutti È guai a chiamarla Troia Ok Quindi tu Cosa insegni Visto che Quella serie Tu stesso Hai detto Che è per i giovani Che le ragazze Possono scopare In continuazione Con tutti È guai a criticarle Io sono il primo Che dice L'ho sempre detto Se un maschio Scopa un botto Non è che un eroe E se lo fa una donna È con la Parola con la T Nel senso Uno fa quello Che gli pare L'unica cosa Che a me Mi ha dato fastidio È che quel personaggio Sprunava Le giovani A esplorare Più uomini Possibili Ok Perché in quella serie V L'hai proprio Spiattellato Perché dice Noi ragazze Possiamo fare Quello che ci pare Possiamo andare a letto Con chiunque Se una ragazzina Dei 12-13 anni Se vede quella serie tv Non dico che è stupida Però Penso che Separa il culo Dicendo Ah Quindi lo posso Faccio bene a farlo Ma perché sono molto Influenzabile È vero Tu puoi fare Quello che Io sono L'ultimo Che ti giudica Nel senso Io non sono uno Di quelli Ah quella va a letto Con troppe persone Quindi no Divertite Fate quello che vi pare Ma l'importante È che comunque Prendete precauzioni È la cosa più importante Capito Non stiamo più Negli anni 50 Capito Ma la cosa Che mi ha dato Fastidio In quella serie È che lei Andava a letto Con 50-60 persone Alla volta E Quello Poi c'è stava Il classico ragazzo Che invece Era innamorato Di lei E quella diceva Ma l'amore Non esiste più È meglio andare a letto Con più persone possibili Ma che cazzo Stai a insegnare Di niente Capito come Quindi abbiamo Questa cosa Che mi ha dato Fastidio Poi Il nero Che deve essere Preso di mira Solo perché Lo dicono Nella serie tv È di colore Ed è gay Quindi due cose In uno Hai toppato Capito come C'è Il quarterback Come ho già detto Che è il classico Muscoloso Perché Non so tutti Muscolosi I quarterback Voi siete Cosi stereotipi Americani Vabbè Sono piazzati Ma non devono Essere per forza Stupidi Perché il personaggio L'hanno fatto Stupido Quanto la merda Veramente Capito come Che si metteva lì A un certo punto A comunicare Con le lettere Dei cereali Perché aveva preso Una botta in testa Tanto delle volte Che aveva giocato male Quindi Cioè ma cosa Una serie del genere Secondo me È cancerogena Sì Scusate per quello Che voleva imitare 11 di Stranger Things Secondo me Gli autori Gli hanno detto Tu diventerai famosa Come Millie Bobby Brown Gli avranno detto E quella Si è montata la testa Per tutto il tempo Ha cominciato a fare La cretina Quando non sapeva recitare Ok E a un certo punto Vi faccio spoiler È entrata Dentro una setta Di femministe Convinte Che iniziano La parola Vabbè È il contrario di gay Erano Erano contro Gli uomini Praticamente Ah E Però praticamente Erano Le classiche Galline Che bevevano vodka Con le tagliette d'oro Che vestivano firmate Eccetera Cioè tu Tu in quella serie tv Stai prendendo per il culo Gli stereotipi Eh Americani Che ci sono comunque Delle donne Che stanno così Però tu In una serie tv Che secondo me Quella serie Voleva Prende per il culo Alcune Confraternite Della scuola Perché comunque Ricordo che la serie tv Si svolge Dentro un'università Come si chiamano College I quei college Che Tanto che ci stanno Gli zombie Che ci stanno Le fazioni Tu hai rovinato tutto Tu che hai voluto Fare una serie del genere Non hai fatto una bella serie È fatto uno schifo Cioè io vi invito A guardare almeno il trailer Dite ammazza carino Dal trailer Poi invece diventa Proprio lo schifo totale Quindi una serie del genere Secondo me Su Netflix I ragazzini Li rovina È un'altra serie Un'altra serie Un'altra serie Un'altra serie Ne vorrei Sono curioso Sapere se l'hai vista Tirti No Non intendo La conosco Ma non la voglio vedere Eh Non ti perdi niente No Hanno Hanno trattato Il tema del suicidio Eh sì Del bullismo Lo so Cioè in un modo Talmente osceno Sì sì Stupido Stupido Che poi La prima serie L'ho finita di vedere La prima serie L'ho finita di vedere Poi hanno detto No no Io non c'erano Dovremmo fare Una seconda Aspetta Dovremmo fare Una seconda stagione A Mende mi ho pensato Ma È stata uccisa Questa ragazza Nella prima stagione Si è suicidata Si è risulta Cioè a cosa serve Una seconda stagione Cioè inizia La prima puntata Questa ragazza È un fantasma Dopo di quello Spento Ho detto No 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 Non esiste Ma sì È per allungare il brodo Beh È per allungare il brodo Ma guarda che poi Veramente The Netflix butta i soldi Veramente a cazzo di carne Ma parliamone seriamente Ma una serie tv Un film Tipo American Pie Al giorno d'oggi Pensi che Non Non fa esplode Anzi Dico una cosa peggio Un cinepanettone Negli anni 80 Al giorno d'oggi Allora io Per girare la parte La puntata Di Jurassic Park Si Di Do You Remember Ho dovuto prendere Degli spezzoni Di Chicken Park Si Ho rivisto Madonna santa quel film Ho rivisto tre minuti Di quella serie Ma proprio tre minuti Hanno detto In cinque minuti dei film Con tre minuti Che ho visto io Quindi tu dici Come ha fatto a vedere Cinque minuti dei film Se l'ha visto tre minuti Perché schippavo Ok Sì 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 Hanno utilizzato La parola con la N 20 volte La parola con la F 50 volte E non si sa perché Gerica là È quello che tromba In questi film Ma nelle tue fantasie Ma pure Massimo Bondi Tromba Nei Poi lì c'è sta C'è sta la Marcuzzi Che là era pure giovane Che se lo vuole proprio Bombare lui Quindi Prendono La donna La sminuiscono In un modo incredibile No ma io Guarda Una cosa mi hai fatto Il flash Io quel film Lo vidi in prima di tv No io non ce la faccio Vedere questi film E purtroppo Io l'ho visto A suo tempo Lo vidi in prima di tv No no Una cosa veramente Cioè nonostante Che era un ragazzino Che là Tu da ragazzino Sai come assorbi tutto Ti vedi di tutto Non te ne frega niente C'è una spugna Il film era veramente Brutto Ma proprio brutto Ma io mi ricordo Che quel film Non uscì al cinema No 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 Gettate in televisione No no Eh però invece Al cinema di Frascati Qui da me Hanno fatto l'anteprima Che culo Che potevi andarla a vedere Gratis Ok E io mi ricordo Il mega poster Che c'è stava Jerry Calaccosico Ho scritto I dinosauri Hanno rotto i coglioni Meglio le galline E sotto Chicken Park È vero È vero E poi stava l'attrice Quella che ha fatto Valentina Ci stava l'attrice Quella aspetta Ma no Cioè Io quel film Non ho fatto L'hanno fatto Due anni dopo Su Italia 1 Ho visto qualche pezzo Dù come andavanti E già all'epoca Non mi piacevano questi film Ma proprio Perché Non per la parola con la N La parola con la F Perché Vi faccio un esempio Sicuramente Se siete dei miei stessi anni Vi ricordate I ragazzi della terza C Sì sì Io me lo ricordo Nonostante Io sono accettatissimo A quella serie Però io Avendo i DVD Ho rivisto Qualche puntata Ci sono rimasto Di merda Cioè Prende c'è Sta il commendatore Zampetti Che c'ha lo schiavetto In casa Lo chiama ogni tre secondi Con la parola con la N C'è una cosa C'è sta Bruno Sacchi Va da Ciro Il cartolaio Gli dice Ma non ti piacciono le film Ne è per niente Ma non è che sei Con la parola con la F Capito come E gli danno schiafo Prova a fare una cosa Del genere al giorno d'oggi Capito come Quindi Ma moltissimi film Non è che Non è che una volta Era meglio Regà Quindi non è che io Posso dire Una volta era meglio Potevi di tutto È che comunque Perché vi sto A fare questo discorso Pensa un po' La televisione Come vi influenza La caposcia All'epoca Capito come Beh Se per voi Questa era la normalità Prima Capito cosa Io Per l'età che ho Ti dico che Prima era la normalità E non Purtroppo Prima era la normalità Ma Se andiamo a prendere Già Come veniva Strumentalizzata La donna A suo tempo Ti ricordi Il drive-in Sì 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 A me Purtroppo Mi hanno sempre Dato fastidio Sti programmi Mai visti Ma ti dico una cosa Ti dirò di più Io per esempio Io sono uno dei pochi Forse in Italia Che odia i filmi di Pierino Li ho sempre odiati Fin da bambino Mi dispiace Mi dispiace Dire questa cosa Dirò una bestemmia Ma a me Fantozzi Mi ha sempre dato fastidio Vabbè Sono gusti Sono gusti Sì sì Ma soprattutto I filmi di Pierino Dove la donna Quello ti raccomando Erano proprio Le anni settanta Dove era la commedia Sexy all'italiana Sì Io mi ricordo Era usata veramente Come un oggetto La donna Cioè al giorno d'oggi Ci sono queste Diciamo queste cosine Ne abbiamo parlato Di Twitch Della donna Di tutti i problemi Che tu hai la donna Non le puoi dire Che è bella Però Ti dà fastidio pure Se la vedi mezza nuda O la vedi vestita Però A quei tempi Veramente era tremenda La cosa Era un oggetto Un giocattolo Era basta Io ricordo una serie Che comunque Era completamente diversa E casualmente Però non era seguita Mega Salvi Show Era uno Mi sa che dobbiamo Farsi in DNA Perché siamo frate Eh sì Perché comunque Francesco Salvi A me Il mitico Ferrinaso Sì Io la comicità Che ho sui video Su Youtube L'ho presa grazie a lui Le battute che ho Il mio saluto Su Twitch Saluto tutti Tranne che Illo Perché Illo Ha fatto appelloso L'ho presa da lui Capito La cassetta Le tue canzoni E casualmente Lui faceva ridere Senza utilizzare donne E volgarità Fateci caso Sì Totano 2 Quelle cose Che faceva il drive-in Ti ricordi Il camionista Mamma mia Le risate Oppure Quando faceva Le cose dell'ottore Volete un lupo? Il lupo è scontato Allora Una delle battute Che mi faceva pisciare Da ridere Era quella Della menta Ti ricordi Tu la battuta Della menta? No Quando uno Va al bar Va al bar E dice Menta Lei è un bell'uomo Menta Lei è un bell'uomo No no Una battuta L'equivoco L'entrida è stupida Però C'è Fadesco Salvi Un mito No Oppure Andava Praticamente In macelleria E faceva Domani Mi devo praticamente Operare E quello quindi Non è che per caso Ha un po' di fegato Cioè Dopo Capito come Oppure Tipo Alzava il bidone Di monti Se chiusi Che c'è corrente Sì Oppure Se ne usciva Con cazzate Oppure Del tipo Vorrei un amaro Che tipo di amaro Amaro qualunque Amaro qualunque La bottiglia Amaro qualunque Cioè Era genio Beh La comicità Ti mando Il suo look Sopra il suo Telequiz Ti mando Il suo look Sì che aveva presa Una ragazza però Bruttina Che stava sempre seria Era proprio Uno schiaffo Morale alla tv Di Agliana De una volta Sì Capito come Sì sì No il mega salvi show È una veramente Ma parecchi programmi Parecchi telefilm Che mi ricordo Che erano tanto ingenui Ma tanto carini La famiglia Rossi Te lo ricordi Che faceva Alle 5 del mattino Che poi qualunque La cosa bella Di Francesco Salvi Che all'ultimo Se tu ti ricordi Lui c'aveva un minuto e mezzo Che rispondeva ai fan Tramite le lettere E in quel minuto e mezzo Lui improvvisava tutto In quel minuto e mezzo Gli davano carta bianca Poteva improvvisare di tutto Capito? Che poi parlava con se stesso Nello schermo della tv Ti ricordi? Sì 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 Anche questo No Quei programmi di allora Non ritornano più Cioè Era una comicità Molto Molto semplice Ma Di un altro livello Veramente di un altro livello Zanzipa Ti ricordi Zanzipa Io mi ricordo Che erano Mi ricordo Proprio a memoria Mi vede a piani Ogni volta che ci penso Perché mi vengono i brividi Ragazzi Sembra una cazzata 1998 Ok Facevo le nottate Per giocare A Metal Gear Solid Metal Gear Solid Tevo in pausa Perché Alle tre del mattino Facevano le puntate Di Non è la Rai Che a Non è la Rai Molti non lo sanno Ma c'era mia cugina No Ho una cugina Che si chiama Alessia Che stava Come Come c'era tua cugina Non è la Rai Come Avevo una cuginetta Che stava Non è la Rai E Ti dico di più A Non è la Rai Ci sta una ragazza Del mio paese Che ha sposato Un famoso calciatore Ma pensate Non faccio il cognome Non faccio il cognome Perché sennò È andata a rompere i coglioni Comunque La moglie di Dino Baggio La moglie di Dino Baggio È del mio paese Comunque era Mora Con gli occhi azzurri Si chiamava Alessia Penso che avete capito Di chi sto parlando E praticamente Io ero innamorato Di mia cugina All'epoca Da bambino Ma Che ancora adesso È una bellissima donna Porca miseria Pure single Quindi se vi interessa E Praticamente Io Guardavano nella Rai Intanto Cosa andavo a fare In cucina Mi facevo Le patatine fritte Alle tre del mattino E Le lasagne Precotte Alle tre del mattino Alle tre Andavo in distruzione Poi Finivano nella Rai Facevano Gli amici di papà Full House Che è un telefilm Che io amavo da morire Da bambino Non so perché Ah Uno di tanti motivi È perché ero innamorato Di Cana Des Cameron Che era un'attrice Bella Juan Pepito Poi Mi guardavo Ocean Girl Che lo odiavo Ma lo guardavo Perché lo dovevano Dare per forza Odia Tamo Praticamente O Carletto Il Principe dei Mostri O Yataman Dopodiché Alle cinque del mattino Prima dei cartoni animati Davano Mega Salvi Show E io non me lo dovevo Perdere Dopodiché Potevo decidere Se O andando a dormire O andando a scuola Ma l'opzione Spesso era Andando a dormire Beh io È un po' più in là Però tipo Mi ricordo Che c'era una roba Boh la Valle Incantata Vabbè Vabbè Ce l'ho già stato Però mi ricordo Grisù che vedevo Non so se te lo ricordi Ve lo ricordo Ok Che era O Grisù io sì Tipo di notte Lo facevano E io ero lì tutto Oh che bello Adesso si vede quello Ero stempiato Si vede E poi una roba Con dei Con degli alieni Tipo Una roba in 3D Tipo Ah ho capito di cosa stai parlando Erano i Biocombat quelli Quelli Oltre che Vabbè Erano i Transformers Con i dinosauri Insebagli alieni Erano i Biocombat Perché lo facevano sempre Su Italia 1 Io poi quando andavo a scuola Quando decidevo di andare a scuola Sì Mi addormentavo spesso in classe Ed è per questo che poi I voti ne risentivano Eh boh Quindi Ed era una cosa strana Perché la gente comunque Mi prendeva già per strano Quando andavo a scuola Però comunque non capiva Che comunque Perché facevo notate Con cultura All'epoca Questa prima era Cultura Scusa Vuoi mettere la tettonica Delle placche Scusa Adesso Sono cose che ti ricordi La tettonica Delle placche Ciao No Anche poi Alle 3 di notte Potevi anche mettere Nei canali regionali Ti dirò Non ero quel tipo Non ero un tipo Che andava dietro queste cose Ero strano Nel senso Non mi puoi dire Che non hai visto colpo grosso Sì Però Ero Ero veramente Infatti i miei amici Mi prendevano in giro Perché non ero uno Di quelli che andava Dietro al sesso Nel senso Non mi ne fregava un cazzo Dentro di me Dicevo Ci sarà tempo Per queste cose Voglio godermi la gioventù Idem Capito come Come ragionavo Sì sì Ma questo io ragionavo Come te Però ovviamente Uguale Poi C'è La curiosità morbosa A quei tempi Ci stava sempre Quello sì Ma non me lo stava Nel senso Se io mi trovo davanti Gli altamen O duzzine Preferivo andare a vedere Sarò malato io Però non mi interessava No Capito come Poi stiamo parlando Comunque Non voglio Di nulla Voi dissociate Stiamo parlando Di un periodo Dove quando andavo in classe Le mie compagne di classe Non erano come le ragazze attuali Eh sì 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 Ho capito Posso confermare Cioè La ragazza Più caruccia Della classe mia Assommiava Dal baruccio Regà Capito Che vi voglio dire Cioè io Oppure Oppure la figlia Di Fantozzi Quando io accompagnavo Mio cognato A scuola Mio cognato Faceva pure i video Con me all'epoca Cacco Che saluto Non so se voi ricordate Io quando lo accompagnavo A scuola C'erano tutte Ste ragazzette Truccate Vestite bene All'epoca Se erano così Puri io ci andavo a scuola Regà Capito come Invece io L'ho detto Tutte che Sommiavano dal baruccio Una cosa incredibile Ma questo posso confermare Che le ragazzine Proprio quelle belle 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 Almeno Io ho fatto Le elementari A metà anni 80 E Non erano Un granché No regà C'erano Un po' più caruccio Ovviamente Però C'erano i baffi E poi erano tutte vestite Ricordiamo Regà Non so se vestite Come adesso C'erano le felpe lunghe Regà Vestivano come i maschi Credo Pensai Cioè Ma infatti Ti ricordi Pure il periodo Dei paninari Pure le ragazze Dei paninari Erano Comunque tutte belle Vestite Pesante Cioè C'erano Poi Della con Sì Della con Chi ci stava La best company E il charro Ste cose Ma andavano Non andavano Muone Sono pagate Svestite Ma sono i tempi Che cambiano Molte Le definiscono Ragazze poco di buono Invece Sono semplicemente I tempi Che cambiano Tutto qua Madonna Comunque Io tra un po' Devo andare via Mi dispiace Manca proprio Dieci minuti E devo scappare Sì Sì Non è un problema Abbiamo fatto Stes cursus Abbraccio No ma Se può Se può Fare anche La seconda Parte Volendo Sì Sì No No Ma Mi piace La cosa Che mi piace Botta e risposta Andare a braccio La cosa migliore Sì Sì Comunque Poi Al giorno d'oggi C'è da dire Che se tu te porti In classe La playstation 4 La maestra Non ti dice niente Beh Io invece Una volta Mi sono portato Un jig tiger Me l'hanno sequestrato Fino a fine anno Sì Sì Ma anche Anche Fra virgolette Anche ai miei tempi Se ti portavi Rob Se ti portavi Il telefonino Tipo O La console Comunque Ti sacagnavano Anche se Tipo A me Se portavo Un succo In più Vabbè Ma Dipende dai posti Cioè Mia Mia nipote Mi ha detto Che c'è Stanno in classe sua Stanno C'erano C'erano i ragazzini Se mettevano A fare tiktok In classe A maestra Non gli diceva niente Eh no Cazzo Sta a fare tiktok In classe Gli prendi Gli schiaffi il telefono Glielo butti via Dalle finestre Ciao Perché se La maestra Gli diceva qualcosa Quella gli rispondeva male Quella stava zitta Beh sì Siamo arrivati Da un Non dire nulla A un Bella la coda del gatto A un A una paura Di dover Redarguire Gli alunni Gli studenti Il giorno d'oggi È un po' di un cavolo Comunque Sto veramente pensando Che comunque Stanno creando pure Un mondo di illusioni Per i ragazzi di oggi Sottutto con tiktok Con queste cose qua No 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 Infatti Io non voglio essere Di solito bacchettone Assolutamente No ma io guarda Non voglio fare il cacacazzi Ma io tiktok È una di quelle piattaforme Che comunque Con tutto che ci sono registrato Ma ci carico In ispezioni di video Lo toglierei Immediatamente Cioè io apro Vedo dei Non dico cazzate Minorenni Col culo dei fuori Che sculettano Cioè ma che cazzo Purtroppo è vero Purtroppo è vero Che cazzo state facendo Regà Che cazzo state facendo No ma No ma Pensa che Alcune di queste persone Hanno una marea di follower E nessuno le dice niente Anzi Vengono spronate A fa cazzate Cioè mio fratello Che praticamente Ogni volta che mia nipote Deve caricare un video Io lo controllo A 50 volte Se si vede Mezza chiappa Mezzo piede Mezza coscia Perché mio fratello È fatto così E fa bene No fa bene Scusa Che cazzo Chiappa e caricano Capito Ma una cosa Non capisimo TikTok non ci ha neanche scaricato Non dico che non so Che funziona Ma quasi Ma c'è un limite di età Per la registrazione A quello Sì C'è C'è Non più C'è però Hanno messo una roba Che Ti chiede A ogni tot Che data di nascita Hai messo Ma uno può scrivere pure Che so Del Del 38 Quello sì Quello sì Giusto Non è che c'è una verifica Con codice fiscale Come faceva Facebook Anni fa È una cosa che devono Fattualmente Sia su Twitch Su Instagram Facebook Condividere il codice fiscale Un po' Praticamente Io da poco Mi sono passato A Fastweb Ok Tramite l'app Di Fastweb Devi fare La fotografia Con i tuoi documenti In mano Sì 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 Questo è così Una cosa del genere Cosa Che io vi ricordo Che in Cina Sui social network In Cina Fanno così Con tutti i social E fanno bene Perché c'è Ti spiego perché Perché c'è un conflitto Con la gestione Dei dati Perché poi Questi dati Che sono particolari C'è il dubbio Di come vengono gestiti Poi dall'azienda E quindi Hai ragione Però ti spiego Com'è che Vedono la cosa Secondo me C'è proprio Un discorso Di gestione Dei dati Che poi È una incoerenza Pazzesca Perché comunque Quando carichi Una foto su Facebook Già la carichi Allora non vi lamentate Di come sta andando Il web Hai capito Cosa intendo Se vi piace L'annazzo No a me non piace Questo annazzo Ma anche a me Però Se Non potete avere 50 e 50 O 100 O 0 Capito cosa intendo Infatti No no ma io concordo Perfettamente con te Era solo per dirti Quante Paracu Ci sono Anche nella Io ultimamente Ho avuto a che fare Pinco lo sa bene Con un bambino Che mi ha Minacciato Sui vari di social Ecco Stava per partire Una denuncia Ecco Io fortunatamente Ho avuto modo Di parlare con il padre E il padre Gentilissimo Che saluto Gli ha Tolto facebook Instagram Il cellulare Però È finita così Ma tu sei Sei una persona Buona e con testa Penso se Un altro ragazzo Invece non c'era Disposizione Parlare con i genitori Eccetera Se andava a mettere Comunque in mezzo A dei casini Perché comunque Quello che a me Mi ha dato dell'omofobo Fascista Cosa che non è vera Perché Perché cercava Di attirarmi l'attenzione Voleva finire su I love you haters Penso Non so che cavolo Gli è passata per la capoccia Stavo utilizzando Tutti i tipi di offese Mi ha dato dell'assassino A un certo punto Mi ha cominciato Anche del gay Cioè Stavo utilizzando Tutte le parole Roba Che comunque L'avvocato Mi ha detto Cioè Sono pesanti Una cosa del genere Ma lì Secondo me Uno Andrebbe fatta Una bella educazione Nelle scuole Ma bella Ma fatta bene No aspetta Prima i genitori Aspetta Prima i genitori Prima i genitori Però Appunto Se con i genitori Magari non puoi parlare Ci sta un'educazione Anche nelle scuole Diciamo È ovvio che Tutto ciò Parte dai genitori Però Nelle scuole Assolutamente Sì però Alex Non possono psicanalizzare Bambino per bambino E vedere come Come la pensi Sono i primi I primi Sono i genitori Però la scuola La scuola ti deve formare Perché Io vi ricordo Indubbiamente Però Non è Ricordo che nel 99 Per una cosa di bullismo È successo il macello Del Columbine High School Ok Io non voglio fare Il classico Non più palle Se qui i ragazzi Comunque Dei psicologhi Li prendevano Ci parlavano Quella tragedia Si poteva comunque Evitare Ma senza dubbio Ma tante cose Si potevano evitare Se Chi doveva Prendere le redini Della situazione Le avesse prese Esatto Quindi Anche la scuola Comunque ti deve formare Sì È normale Noi viviamo adesso In un periodo Dico questa Poi devo scappare Viviamo in un'epoca Purtroppo Che il cellulare È all'ordine del giorno Sì I genitori Se non ti possono Stare dietro Ti mandano a scuola Anche per questo motivo Per formare il ragazzo Devono Comunque Prendersi Prima di tutto Le responsabilità E devono insegnare I ragazzi L'educazione informatica L'educazione informatica Ma il pericolo Che c'è dietro Assolutamente Perché Attenzione Nota Come è cambiata La concezione Di privacy Di oggi Rispetto a dieci anni fa C'è un abisso Della madonna C'è un abisso Della madonna È normale È normale Ma è scandaloso Se vogliamo Anni fa Dieci Quindici anni fa Nessuno avrebbe mai pensato Di caricare Delle foto Anche normali Sui social Nessuno Ma se per questo Neanche fare gli screen Neanche fare gli screen E mandarle in giro Esatto Esatto Che aiuto come Al giorno d'oggi Tu devi stare attento A quello che dici Perché la gente Può modificare pure Con photoshop Delle conversazioni E mandarle in giro È vero Infatti Io sono Sono responsabile Di sicurezza informatica E so Andrebbe insegnato Nelle scuole Perché internet Lo dico Lo ripeto È un campo minato Sì È un campo minato E io ho sempre Ribadito Che ci vorrebbe Anche un piccolo Patentino Per andare su internet Che c'è Il genere Ignorante Che dice Le peggio Cazzate Soprattutto Sui social di oggi Ma pure a livello politico Cioè Trump ci ha vinto Una elezione Con una cosa del genere Io non voglio fare il cacacazzi Vedo anche su facebook Molte mie amiche Che caricano Ogni tre secondi Fotografie Con le zine De fuori Non sono il tizio Classico Ma dopo un'altra cosa Se ti interrompo I bambini Non mettete le foto Dei vostri figli A parte Nessuno di quelli Che dice Fatti meno foto Alle zine Non me ne frega Un tupo Fa quello che ti pare Però Se dopo qualche Tot di tempo Inizi a ricevere Amicizie Da parte dei porci Eh Fatti Non due domande Dieci E cerca Di rendere Il tuo profilo Privato Per quelli Che comunque Interessano a te Perché se tu Hai il tuo profilo E fai vedere Le zine A tutti quanti È normale Che attiri Porci Poi cosa fanno Questi porci Prendono le fotografie Le mettono sui siti Internet Ti mettono in mezzo In qualche casino Sì Ma questo Infatti Lo stesso discorso Prima di collegarmi A tiktok Poi chiudiamo Del fatto Delle ragazzine Che magari Loro Ma anche Non dico ingenuamente Ma loro Simpatica Voglio stare su tiktok Voglio fare Le loro canzoncine Le loro balletti Tu non puoi mai sapere Chi ti contatta Sì Cioè È pericoloso Cioè Questo è il discorso È pericoloso Cioè Veramente E soprattutto Io dico Dei vostri figli Su internet Vero Oscurate sempre La faccia Sempre Ma anche Ma Per esempio Uno che ammira Andrea Galeazzi Suo figlio Quando ve lo inquadro È sempre oscurato La faccia Sempre Andrea Galeazzi È una persona Con testa Andrea Galeazzi È una persona Che gira Nel mondo Della rete Sa i rischi Io questo Lo riparisco Sa come funziona Controllate i vostri figli Su tiktok Perché C'è loro Magari Sono Non fanno vedere Niente Con il fatto Di essere minorenni Possono essere Adescati Da Ci sembra Da boomer Però è la verità Non è vero Non è essere boomer Direi pure una cosa malata Direi pure una cosa malata Ma tu che comunque Ne capisci come me C'è il deep fake Raga Non c'ho le niente Stavo per dire La fotografia tua Metterla con un video In un video porno Capito Lo stavo per dire Assolutamente Mi hai tolto le parole Di bocca Quello È un pericolo Se fai un meme Ci sta Però A me danno fastidio Anche quelli Sinceramente Ma aspetta Dipende 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 Che di fake Parliamo Perché se tipo Vuoi fare Che ne so Non so se è presente AmarCord Produzioni No Ok Loro fanno Dei montaggi Pazzeschi Ha capito Vabbè Finché c'è da ride Ok Però io no Un documentario Dove Facevano vedere In pochi semplici passaggi Al giorno d'oggi L'intelligenza artificiale Come possono far comparire Tua figlia In un video porno Esatto Ma non solo Ma possono anche Sfruttare in tribunale Perché possono Fargli anche Dire cose Che non ha mai detto Sì A parte quello Ma possono comunque Anche farla comparire No ti dico una cazzata Insieme Mano per mano Con un altro E prendi i soldi Dall'assicurazione Dico Quello mi ha tradito Quindi capito come funziona Chiaro Chiaro Perché poi Diventa una prova Io ad esempio FaceApp Non l'ho mai scaricato Ste applicazioni qua Non mi sono mai interessate Ma infatti Che fanno Queste applicazioni Se le scaricano con attimo Quelle per i contagi Del coronavirus Quelle no Perché te tracciano Capito Sì L'incoerenza Praticamente Torniamo al discorso La patente di internet Vabbè Non voglio andare Andare oltre Ragazzi Io devo scappare di corsa Va bene Ti ringrazio Pio Per questa Giacchierata Volendo possiamo Favre una settimana Non è un problema È stato veramente Un piacere Cioè Si capisce Uno Che passione Per tutto quello che fai Due Che sei un grande Non è una leccata di culo Che sei veramente un grande Pure la prossima settimana Possiamo pure farne un'altra Tanto Sarebbe Sarebbe veramente figo Veramente un piacere Parlare appunto Con te E Vedere anche i punti di vista Quando vuoi E soprattutto La cosa Che si ribadisco Che siamo andati a braccio Ah ma sì Ma quello sì Quello sempre Mi saluto pure il gatto Che questo è già stato dormito Grande Amici Grande Ragazzi Bella per voi Alla prossima Alla prossima Ciao Un abbraccio Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti Grazie mille Grazie mille a tutti Alla prossima Ciao Ciao